Sono qua in un posto che è stupendo, stupendo come paesaggio perché ci sono delle montagne stupende. Però il bello non è questo paesaggio, è che sto arrivando dal paese di Paesana, dove c'è stata la commemorazione del 25 aprile, che per l'appunto ricorda le lotte partigiane che proprio qua in questi posti ci sono svolte. E allora diciamo che ho unito l'utile al dilettevole. Ho commemorato e sto guardando questi bei paesaggi. Cosa vorresti dire ai giovani che ti vedranno in rete? Vorrei dire ai giovani che noi stiamo per sparire e quindi lasciamo tutto in mano loro. Non dovrebbero cercare di dimenticare quello che abbiamo fatto, cercare di conservarlo e possibilmente di migliorarlo. Perché purtroppo so che i giovani sono malmessi. Sono malmessi anche per colpa nostra. Come ti chiami e quanti anni hai? Io sono ruffino e ho 85 anni. In che brigata eri da partigiano? Io ero un garibaldino e se permettete vorrei aggiungere una cosa. I garibaldini mi hanno insegnato il comunismo e io oggigiorno purtroppo non posso non dirmi comunista. Grazie Paolo. Che piaccia o non piaccia.